Ieri masterclass di abbinamento cibo-vino, perciò vini del consorzio Campi Flegrei e Ischia, perciò Palummo Biancolella e Falanghina. E c'erano logicamente i pesci azzurri, tonno, lo sgombro, le alici. Oggi siamo qui al mercato dove proponiamo la stessa formula per coloro che vogliono comprarli. Questo è l'ultimo giorno di Azzurro Pozzuoli. Sì, Azzurro Pozzuoli finisce oggi qui al mercato ittico al dettaglio di Via Fasano. Siamo qui col vino e col nostro pesce azzurro, col vino del consorzio Campi Flegrei e Ischia. Vi aspettiamo in tanti, dalle 5 alle 8 faremo il coppetiello di alici offerto a chi viene a comprare il pesce, ma poi il mercato è aperto tutto il giorno, stasera e anche tutta la notte, quindi vi aspettiamo in tanti. Bene, oltre, logicamente, Falanghina e quello che è il piedi rosso, c'è il Biancolella del consorzio dei Campi Flegrei. Come è stato realizzato questo vino? Allora, questo vino è un 100% Biancolella, viene vinificato di solito fino agosto e passa solo per la botta in acciaio. Dopodiché, più o meno verso gennaio, viene imbottigliato. Grazie. 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 Grazie.